Noi riprendiamo. Alla linea 76 abbiamo trovato l'espressione religione pura e abbiamo capito che la religione pura è quella che opera. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa, visitare gli orfani e le vedove. Dunque non c'è nessun tipo di moralismo, religione pura è osservare qua, osservare là, osservare la via. No, religione pura è una fede che diventa operosa. Punto. Chiuso. Queste premesse sono necessarie per cercare di capire quello che viene dopo e cioè l'antitesi e dedicheremo questi 40 minuti a chiarire l'antitesi che c'è a meno apparente che c'è tra Paolo e Giacomo. Paolo è estremamente duro e sintetico. Fede sì, opere della legge no. Mentre invece Giacomo dice fede sì e opere anche. Adesso cerchiamo un momentino di capire Giacomo, poi cercheremo di capire Paolo. Giacomo vede con chiarezza un dato. Il demonio crede sì e non si salva. Dove c'è dunque la differenza fra la fede che il demonio ha e la fede che ho io? Il demonio crede e non opera di conseguenza. Io credo e opero di conseguenza. Dunque esistono due modi di credere. Il primo modo è quello demoniaco. Il secondo è quello cristiano. Il modo demoniaco è udire, capire, memorizzare. Chiuso. Non si passa a sentire perché sentire porta ad operare. Il demonio sa che Dio esiste, sì, eppure non si salva. Esiste perciò una fede di tipo intellettuale che non salva. Questa si chiama polemica anti-gnostica. Dicevamo prima che l'ognosticismo è imparare i misteri della fede, accettarli, punto, fine della trasmissione. Se noi prendiamo i vecchi manuali di teologia dogmatica, questi dicono che esistono due tipi di fede che devono convivere insieme. Il primo tipo di fede è proprio questo, accettare che esista una verità che supera la nostra capacità intellettuale. Presa da sola questa parte della fede sarebbe gnosticismo. Io con la mia ragione non arriverò mai a dire che uno è uguale a tre. Però la Trinità mi dice questo. Io non arriverò mai con la mia intelligenza a dire che quel pane è il corpo di Cristo. Con la mia sola intelligenza non arriverò mai a dire che Maria è vergine, pur avendo dato al mondo un bambino. Ci troviamo di fronte dunque a cose che ci superano. I teologi chiamano questo tipo di fede e l'accoglienza di verità che superano la nostra intelligenza si dice fides que creditor. La fede che è creduta. La fede che è creduta comporta l'accoglienza di determinati contenuti. Ma la vecchia teologia dice giustamente questa fede non basta perché è gnosticismo. Occorre la fides qua creditur. Fides qua creditur. Fides qua creditur. Cioè quella relazione, quel legame, quel fascino per cui tu scegli di giocare tutta la tua vita sul modello di quella persona. L'insieme e la fede. Separatamente non è un bel niente. Giacomo sta puntando molto su questo discorso. La fede da sola, quella che accoglie le verità che ci superano, non salva perché questo tipo di fede lo possiede anche il demonio. Occorre anche l'altra fede, quella che opera. E opera in un determinato modo. Paolo non ha questi problemi. Siamo in due epoche diverse e i destinatari sono diversi. Mentre Giacomo ha una comunità dove la filosofia agnostica era entrata e quindi lui deve disintossicare questo gruppo di persone da quel modo di pensare fede e accogliere il mistero. Basta. Io sono credente ma non praticante. Questo è gnosticismo puro. È un'eresia. Già vissuta dalla Chiesa Antica alla fine del I secolo per tutto il II e parte del III secolo. Paolo invece ha come destinatari degli ebrei convertiti al cristianesimo. Per l'ebreo la fede che cos'è? È una realtà che non può essere scissa dalla morale. Ascolta Israele Il Signore è il nostro Dio unico è il Signore fondamento della fede ebraica Amerai vuol dire essere fedeli Sarai fedele al Signore tuo Dio con tutto il cuore con tutta l'anima e con tutte le tue forze ma questo è il fondamento della morale ebraica e nello Shemach Israele sono una cosa sola l'ebreo ripete due volte al giorno ancora oggi questa brevissima preghiera Paolo dunque ha come ascoltatori gente che la pensa così se tu credi ti comporti in una determinata maniera Paolo non ce l'ha con le opere ce l'ha con le opere della legge voi dite ma che differenza fa? Adesso ve lo spiego Gesù combinava miracoli anche di sabato ed è uno dei rimproveri che li vengono fatti non solo ma è anche una delle accuse che vengono fatte al processo operare di sabato all'epoca di Gesù era assolutamente proibito perché di sabato non si poteva fare niente l'unico lavoro che si poteva fare era il cammino il percorso dalla tua casa al tempio andata e ritorno basta neanche far da mangiare potevi dovevi prepararlo il giorno prima non si poteva fare commercio non potevi fare niente giorno di sabato era riposo Gesù invece fa miracoli a tamburo battente e sembra anche che ci trovi gusto ma perché perché lui andava in sinagoga vedeva un disgraziato in sinagoga gli faceva il miracolo ma era perché lo vedeva in sinagoga non perché andasse in cerca di questa povera persona che aveva bisogno e quindi di sabato c'è una polemica e Gesù spiega perché lui opera di sabato e se ricordate lui fa due ragionamenti il primo è questo dice ma se tu hai un animale che è caduto nel fosso di sabato ti è permesso di tirarlo fuori e riportartelo nella stalla ora se ti è permesso questo con un animale salvare un animale tanto più deve essere permesso salvare una persona questo è un ragionamento di tipo sapienziale sapienziale in cui Gesù gioca sulle eccezioni morali del sabato che al suo tempo erano permesse dal rabbinato le scuole rabbini che dicevano così sabato non si lavora ma se un animale è in caso di necessità tu lo aiuti dice Gesù se questo è permesso dal rabbinato per un animale a maggior ragione si può dedurre che sia permesso per un individuo ma poi fa un secondo ragionamento e dice ma Dio durante il sabato fa del bene o no per noi una dicitura del genere è stupida nel mondo orientale significa ma Dio di sabato sostiene la creazione o la lascia andare in malora è ovvio che la risposta è sì Dio di sabato sostiene la creazione se no per davvero andiamo in malora e allora se sostiene la creazione io sto continuando l'opera della creazione facendo queste guarigioni capite e poi c'è un terzo argomento in questo caso di tipo esegetico leggendo i due comandamenti del sabato quello di esodo 20 e deuteronomio 5 si capisce benissimo che il sabato non è in funzione del riposo il riposo è uno strumento attraverso il quale l'uomo esperimenta di essere uguale a Dio perché nel primo comandamento nella versione di esodo 20 si dice Dio ha lavorato sei giorni il settimo si è riposato tu lavori sei giorni il settimo ti riposi fai come Dio in esodo 5 in deuteronomio 5 si dice Dio ti ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto sì allora anche tu una volta per settimana liberi i tuoi schiavi dalla loro schiavitù e li lasci liberi e quindi non fai fare loro niente e quindi anche tu fai niente il riposo è un modo con cui tu imiti Dio basta ma allora l'obiettivo del sabato è recuperare la propria identità d'immagine e somiglianza di Dio non è finalizzato al fare niente ma è il fare niente che è finalizzato a qualche cosa di più importante a scoprire la tua identità divina e questo lo ottieni imitandolo e Gesù dice Dio fa del bene o no? sì allora lo faccio anch'io vi è chiaro? oggi se siete stati a messa o se andrete ascolterete un Vangelo che è un bonbon ma il bonbon del Vangelo lo trovate nei primi versetti perché le altre sono esemplificazioni due terzi del Vangelo di oggi in passato vi fu detto ma io vi dico sono esemplificazioni ma la chiave la trovate all'inizio quando lui dice guardate che io non sono venuto ad abolire ma a plero in greco plero vuol dire tante cose c'è una promessa c'è un adempimento della promessa come si dice l'adempimento della promessa in greco plero hai adempiuto tu riempi un secchio d'acqua ce l'hai a metà manca ancora l'altra metà tu ci metti dentro anche la seconda metà come si chiama quest'azione plero completare adempiere portare a compimento quando poi Gesù esemplifica fa ancora peggio perché dice lasciate stare quello che vi è stato detto fate quello che vi dico io quindi abbiamo tre atteggiamenti che Gesù ha nei confronti della legge cioè dell'antico testamento c'è qualcosa che passa la profezia che viene adempiuta quindi permane valido questo dato che trovate nell'antico testamento poi ci sono altre cose che invece l'antico testamento ha come cose incomplete e lui viene a dare completezza e poi ci sono altre cose che dall'antico testamento non passano al nuovo e se voi leggete con attenzione o ascoltate a cui è in con attenzione il Vangelo di oggi vedete che il denominatore comune di tutti queste antitesi in passato vi fu detto ma io vi dico sono tutte antitesi che eliminano il codice scritto e fanno appello alla tua sincerità di coscienza Geremia l'aveva detto nel capitolo 31 che con la nuova alleanza Dio avrebbe scritto la sua legge nel cuore delle persone non più in un codice esterno e voi notate come Gesù in questo caso abbandoni le opere della legge e si appelli alla coscienza veritiera della persona vi è chiaro fin qua? benissimo Paolo intende proseguire su questa linea non è che Paolo non abbia stima per le opere anzi ne ha molta provate per un momento ad andare la linea 100 nella linea 100 io vi ho citato un testo della lettera ai Romani che è il capolavoro di Paolo è la lettera dove lui fa un vero e proprio trattato sulla giustificazione cioè su quella verità di fede per cui Dio ci fa giusti e quindi ci dà la possibilità di essere salvati tu però linea 100 con il tuo cuore duro e ostinato sta rivolgendosi a un tu inventato sarebbe un interlocutore ipotetico di stampo ebreo cristiano tu però con il tuo cuore duro e ostinato accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio che renderà a ciascuno secondo la sua fede no no secondo le sue opere la vita eterna a coloro che perseverando nelle opere di bene cercano gloria onore incorruttibilità nello spazio di tre versetti paolo dice quanto sia importante agire perché Dio renderà ciascuno secondo non la sua fede ma le sue opere poi qui subentra il discorso della proporzionalità per cui la vedova dà più di tutti buttando venti centesimi ma capite allora a questo punto che non è la legge che determina il valore di un'azione ma è l'atteggiamento interiore lei ha dato quello che poteva e dando quello che poteva ha dato il massimo venti centesimi Paolo dunque non fa il discorso di quanto grande debbano essere queste opere ma le opere ci devono essere perché Dio renderà ciascuno secondo le sue opere secondo quello che poteva fare ma il fare c'è la vita eterna a coloro che perseverando nelle opere di bene seconda lettera ai corinti siamo la linea cento e quattro poi torneremo indietro tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando eravamo nel corpo sia in bene che in male opere è scritto capite però che sia nella lettere romani sia ai corinti queste opere non sono agganciate alla legge mentre invece se avete letto la linea 86 si parla espressamente delle opere della legge perciò c'è una distinzione tra le opere della legge e le opere che derivano dalla fede cristiana io so che voi conoscete amminadito il Vangelo di Marco soprattutto il capitolo settimo dove c'è un esempio anche ridicolo e Gesù lo fa apposta tu hai cento euro in tasca pensi di darli alla sinagoga o al tempio viene tuo padre che non arriva alla fine mese con la pensione ti dice mi impresti cento euro e tu gli dici li ho li ho in tasca ma non sono più miei perché li ho promessi al tempio e lì Gesù va giù di brutto e dice tu semplicemente per una postilla fatta dai rabbini neghi la parola di Dio la quale dice dai il giusto peso a tuo padre e a tua madre capite dunque noi abbiamo una polemica fortissima da parte di Paolo nei confronti di quelle opere che derivano da una legge mentre invece c'è una presa molto seria nei confronti di quelle opere che derivano dalla fede se voi notate Giacomo dice la stessa cosa con le mie opere io ti mostro qual è la mia fede ma allora sono opere che derivano dalla fede non dalla legge vogliamo tradurre oggi è domenica la legge dice che dice la legge non andateci sembra un controsenso non andateci perché è la legge che lo dice o ci andate perché siete convinti che lì voi accedete alla parola di Dio che è vita eterna le mie parole sono spirito e vita andate lì perché c'è l'Eucarestia a chi mangia di questo pane e beve il mio sangue ha la vita eterna già da adesso e ha la garanzia che io lo risusciterò nell'ultimo giorno per questo si va a messa non perché c'è una legge se noi ci andiamo perché c'è una legge allora ha ragione Gesù nel Vangelo di oggi se la vostra giustizia non è superiore a quella degli scrivi dei farisei ciao i ladri e le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli noi facciamo fatica ad entrare in questa logica perché siamo abituati alla legge codice della strada codice penale codice civile sono a posto con la legge che mi può dire niente ma non è quello il problema il mondo greco pur essendo antico ci sopravanza di chilometri sulla maturazione come cittadini e come uomini aveva prodotto una tragedia chiamata Antigone dove il vero problema che si poneva in questa tragedia era le leggi scritte sono tutto e la tragedia risponde no perché la ragazzina la piccoletta Antigone è una fringuella contro la legge scritta del fratello prepotente va a seppellire il fratello soccombente quello che era stato ucciso e lasciato insepolto nella spiaggia lei contro una legge scritta va seppellisce il corpo del fratello morto il fratello prepotente la processa e la condanna a morte e lei prima che venga fatta l'esecuzione dice esiste una legge che non è scritta ed è superiore alla legge scritta ed è la legge della coscienza mondo greco aveva capito benissimo questo e il cristianesimo ti sta dicendo la stessa cosa lascia stare la legge scritta perché se tu compi qualche cosa semplicemente per obbedire alla legge il tuo essere persona giusta non supera quella giustizia degli scrivi dei farisei opera perché hai una convinzione profonda hai delle motivazioni profonde e quindi in coscienza tu dici è bene che io faccia questo la legge è solo una specie di cartello di indirizzo ma tu non ti comporti perché c'è il cartello ti comporti perché sei convinto Pordenone 86 chilometri io quando arrivo a Mestre da Roma e vedo Pordenone 86 chilometri mi pare di essere a casa ma io vengo a casa perché ho piacere di venire nella mia stanza a dormire nel mio letto non perché me lo dice il cartello questa è la mentalità che Giacomo vuol trasmettere allora se noi tiriamo una piccola linea cosa dobbiamo dire quando leggiamo i testi biblici e troviamo questa specie di apparente opposizione la prima cosa è capire bene i due testi la seconda cosa è fare l'analisi dell'autenticità wow voi prima vi sarete anche annoiati un poco quando io ho cercato di dire ma chi l'ha scritta dove l'ha scritta quando è stata scritta questa lettera e nonostante avessimo scavato nel testo non è che abbiamo ricavato grandi cose però abbiamo ricavato dal testo un dato importantissimo che il testo di Giacomo è antignostico di tutto quanto quello che vi ho detto questa è la cosa più importante quando si fa una lettura attenta di un testo si fa l'analisi dell'autenticità chi l'ha scritto quando dove a chi in questo caso noi abbiamo stabilito che la lettera di Giacomo è scritta agli gnostici che devono essere riportati nella retta via mentre Paolo scrive a degli ebrei convertiti al cristianesimo due destinatari diversi due concezioni diverse due modi di ascoltare diversi quando ci sono due modi di ascoltare diversi si dice la stessa cosa ma in modo diverso perché c'è l'interlocutore che è diverso e allora Paolo cosa sta dicendo voi ebrei non trovate la vostra sicurezza di salvezza nella legge trovatela nella vostra coscienza una coscienza che è modellata dalla fede quindi noi ci serviamo per la fede non perché osservi una tabella questo era il modo di parlare agli ebrei di Roma convertiti al cristianesimo Giacomo ha a che fare invece con un movimento culturale che riteneva che il pensiero era la fede e quindi bastava dare l'assenso del pensiero ai misteri e si era credenti e quindi si era salvi e Giacomo prende il demonio come punto di riferimento e fa un ragionamento che demolisce questo tipo di atteggiamento due interlocutori diverse due argomentazioni diverse per la stessa verità una una verità detta in forma apparentemente diversa ma è diversa perché il destinatario è diverso vi è chiaro? dove sbaglia Lutero? dove i nostri fratelli protestanti hanno preso fischi per fiaschi proprio in questo ambito Lutero ha preso il testo ed è rimasto fermo al testo senza domandarsi chi è il destinatario è importante il destinatario? sì vi faccio un esempio quello che sto facendo alla casa dello studente se io dico sia santificato il tuo nome un cristiano di duemila anni fa capisce benissimo voi non capite allora per dire la stessa cosa io devo dire tu Dio rendi contaminante di vita la tua presenza tra gli uomini e nella storia voi dite ma Don Renato è un'altra cosa no è la stessa cosa perché io non ho fatto altro che prendere le singole parole strizzarle come un grappolo d'uva e farvene fuori quello che è il nettare ma altro è dire a noi oggi tu Dio rendi contaminante di vita la tua presenza tra gli uomini nella storia e questo lo capiamo benissimo ma se io oggi dico sia santificato il tuo nome non capiamo un pifero di niente perché voi siete dei destinatari diversi da quelli che erano duemila anni fa il destinatario cambia la forma di comunicazione se il mittente è intelligente perché se il mittente è gnocco addio busy il mittente il mittente e gnocco ripete sempre le stesse cose che davanti abbia un eschimese o un tuareg non gli importa ma se tu tieni presente che è molto importante che il destinatario capisca allora tu modifichi le parole mantenendo lo stesso concetto ma trasmettendo secondo le parole e il destinatario riesce a capire sì ecco questa è l'esegesi è quella che faccio io da 40 anni prego e noi cristiani diciamo beati i poveri in spirito questo mondo non dice beati i poveri in spirito poveri in spirito vuol dire che puoi avere anche un conto bancario infinito ma questo vuol dire essere ricchi no non è questo il problema il vangelo non è un analista sociologico povero in spirito vuol dire che tu non fondi la tua felicità su quei soldi provane sia che li condividi sei capace di condividere con gli altri ciò che tu sei e ciò che tu hai questo è il povero in spirito e quindi anche il mendicante può essere povero in spirito quando condivide con chi ha meno cioè non è legato a se tu sei legato al tuo io perché il tuo io è talmente ipertrofico che non deve essere toccato da nessuno non sei povero nello spirito e quindi non potrai essere misericordioso le beatitudini sono un piccolo indizio per capire ciò che è non mondano perché il mondano è esattamente l'antitesi l'opposto il mondo non apprezza il mite apprezza il prepotente il forte il mondo non apprezza i misericordiosi apprezza quelli che si fanno valere sempre mi spiego e Giacomo dice non lasciatevi contaminare sporcare da quella mentalità perché il cristianesimo ne ha un'altra riusciremo a vivere la mentalità cristiana fino in fondo siamo persone limitate piene di difetti facciamo due passi avanti uno indietro qualche volta anche due ma sappiamo qual è la strada che non è quell'altra ho ucciso un uomo per una mia scalfitura che un giovane per un mio livido sette volte sarà vendicato caino ma l'amec settanta volte questa è la mentalità di questo mondo aprite il giornale e non c'è bisogno che io vi dimostri niente e Giacomo dice non lascia sembra vincente quella mentalità lì soldi gloria potere fare quello che si vuole prevaricare non è questo che il cristianesimo propone e quindi non lasciarti contaminare da quella mentalità questo sta dicendo Giacomo cosa dite? guardate che il cristianesimo è una proposta e come tale resta per tutta la vita ognuno di noi ognuno di noi avete capito? fa quello che può perché Dio dice che la vedova ha dato più di tutti ha fatto quello che ha potuto 20 centesimi 20 centesimi noi invece siamo piuttosto matematici se c'è un ideale bisogna raggiungerlo ma se non ce la fai non ce la fai e Gesù tiene conto di questo però fai quello che puoi secondo quella linea non abbracciare l'altra molto spesso ti capiterà di abbracciare l'altra ma allora riconosci che è una debolezza è un errore è un peccato è un qualche cosa su cui convertirti non fartene una tragedia l'importante è riscoprire quello che è il messaggio evangelico per questo motivo il cristiano ogni giorno dovrebbe leggere un pezzettino di Vangelo non per il gusto di leggere non per diventare biblista tanto non lo diventerete lo stesso non lo sono neanch'io io ogni giorno studio e i ragazzi mi dicono ma lei come fa a perdere tempo a studiare ce n'è da imparare ancora ma è proprio per assumere nuovamente sempre da capo questa mentalità questa sensibilità che non ti deve processare se sbagli ti deve semplicemente aiutare a fare shuv parola ebraica molto complessa il beduino sul cammello perde la carovaniera si trova in mezzo al deserto gira il cammello e poi lascia che il cammello pian piano con il ritmo che decide lui torni a riacquistare la carovaniera in mezzo a Grazie a tutti.